Ciao siamo su netbooknews.it, questa è la video recensione per il Kobo Mini. Questo è uno dei nuovi ebook reader mondadori venduti nelle librerie mondadori. È anche il più economico della serie perché costa soltanto 79 euro ed è attualmente il dispositivo, l'ebook reader più piccolo disponibile in Italia. Il suo schermo è una diagonale di soli 5 pollici, quindi è un formato molto molto portabile. Anche il peso è basso perché siamo vicini ai 130 grammi ed abbiamo una grandezza che può essere paragonata a quella di un portafoglio maschile o comunque alla metà di un libro tradizionale. È piccolo e compatto ma permette di memorizzare più di 1000 libri che possono anche essere caricati direttamente dal pc sfruttando la porta micro usb sul fondo. Non ha pulsanti per il cambio pagina, tutto si fa sfruttando l'interfaccia touchscreen dello schermo. Lo schermo è un e-ink ma non è del tipo pearl usato comunemente negli ultimi ebook reader, questo perché non esiste attualmente un pearl di questo formato. È invece un vizplex, ovvero una tecnologia leggermente più datata che però a conti fatti si dimostra assolutamente all'altezza della situazione. Kobo Mini è un dispositivo economico ma la qualità costruttiva e il design sono veramente veramente ben fatti. Non ci sono scricchioli, tutto è solido, ben bilanciato e stabile. Tra l'altro può essere anche sostituita questa parte, questo retro color argento con altre colorazioni e può essere anche acquistata la versione nera. L'interfaccia grafica e le funzionalità sono le stesse che abbiamo visto negli altri ebook reader Kobo. Devo dire che nonostante le dimensioni si riesce ad avere un buon feeling con tutte le opzioni disponibili. I libri possono essere anche acquistati direttamente dal lettore online sfruttando la connettività wifi integrata. Kobo ci ha abituati a tutta una serie di personalizzazioni della sua interfaccia grafica e dell'esperienza di lettura che si ha con il lettore e in Kobo Mini queste opzioni sono tutte presenti nei classici menu. Mai come in questo modello però diventano fondamentali le possibilità di personalizzazione dei caratteri, della grandezza, i margini, l'interlinea e via dicendo. In particolare su Kobo Mini diventa fondamentale la giustificazione i margini che se impostati al minimo quindi molto ristretti permettono al lettore di avere un aspetto quasi full screen quindi superire in parte allo schermo così piccolo. Devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso da la comodità di lettura offerta da questo piccolo pannello e devo anche spezzare una lancia a favore del pannello VizPlex perché in questo modello non si fa sentire affatto la mancanza di un più pregiato Pearl. È diverso però il discorso con i PDF perché la dimensione del display non rende possibile sfruttare comodamente questo tipo di documenti. Ad esempio se andiamo ad aprire un classico documento formattato per A4 dobbiamo necessariamente usare lo zoom per avere una visuale un pochetto più comoda e poi spostarci di continuo all'interno del documento quindi non è proprio il massimo da questo punto di vista. Lo stesso discorso vale per i fumetti. Kobo Mini supporta gli archivi CBZ e CBR però valgono le stesse considerazioni appena fatte per quel che riguarda lo zoom e la scomodità che dovuta a questo scrolling continuo che il lettore che lo schermo così piccolo ci obbliga a fare. Diciamo pure che PDF e fumetti non sono il massimo per questo ebook reader però dobbiamo anche ricordare che sono comunque presenti tutte le funzionalità offerte dai soliti lettori Kobo quindi il dizionario integrato, la possibilità di aggiungere noti, di sottolineare alcuni passaggi anche di condividerli sui social network sfruttando l'integrazione con Facebook oltre che sfruttare alcune delle caratteristiche ormai esclusive dei lettori Kobo come Reading Life che ci dà una serie di statistiche sulla nostra lettura ed una serie di premi al raggiungimento di certi obiettivi ed è una cosa molto piacevole da utilizzare ma anche aggiungo la voce extra dove troviamo il browser e anche la possibilità di scrivere note a mano libera utilizzando il piccolo pannello dello schermo. Kobo Mini è un dispositivo che dà subito confidenza si riesce immediatamente ad apprezzare il piccolo formato e almeno nel mio caso a preferirlo ai lettori tradizionali più grandi durante gli spostamenti quotidiani io lo consiglio proprio a questo tipo di persone a chi ha bisogno di leggere molto fuori casa quindi in tram, in treno, durante i viaggi di tutti i giorni ma anche per brevi sessioni di lettura al contrario se cercate il vostro primo ebook reader e magari non avete ancora ben chiari la tipologia di documenti di libri che andrete a leggere beh forse ancora è meglio puntare su un classico 6 pollici in tal caso restando sotto i 100 euro esistono in commercio due ottimi prodotti come lo stesso Kobo Touch ma anche il Kindle 4.1 bene per maggiori informazioni su Kobo Mini per considerazioni anche più tecniche che non ho potuto fare in questo filmato leggete la recensione completa di cui vedete adesso il link sullo schermo ed iscrivetevi a questo canale youtube per altri video su lettori di libri digitali grazie a tutti grazie a tutti